Cari amici, bentornati in questo nuovo episodio di Vivere in Armonia. Bufale, complotti, cospirazioni. Negli ultimi anni è cresciuto a livello esponenziale l'interesse verso questi tre elementi. Addirittura si è sviluppato tutto un filone di ricerca che cerca di esplorare i motivi, i fattori che rendono così affascinanti sia le notizie che appaiono come vere ma che non hanno un fondo di verità, sia l'adesione alla teoria del complottismo, alle cospirazioni che vanno contro quello che viene affermato dalle autorità, contro quello che viene affermato dalla scienza. E mi sembra interessante andare ad esplorare proprio attraverso la ricerca scientifica quali sono i motivi di adesione a questi movimenti, ma soprattutto anche come mai è così difficile poi instaurare un dialogo con le persone che aderiscono a un movimento complottista. E allora cercheremo oggi in questo episodio di vedere proprio questi due elementi. quali sono i fattori che rendono affascinante l'adesione alla teoria del complottismo e come mai è così difficile comunicare, confrontarsi con persone che aderiscono a cospirazioni e complotti. Partiamo dal contesto moderno. Siamo nel ventunesimo secolo, società occidentale. La parola chiave sembra essere quella del cambiamento, un cambiamento che avviene addirittura troppo velocemente negli ultimi anni. Le persone quindi sono costrette ad aggiornarsi continuamente per tenere il passo con questo cambiamento. Pena l'esclusione, pena rimanere indietro. Che cosa significa? Beh, significa ad esempio non riuscire a reinserirsi o a rimanere in un contesto lavorativo sul piano professionale. Oppure rimanere indietro rispetto all'evoluzione delle relazioni, a come cambiano i rapporti oggi, i valori. E allora non potendosi più aggrappare ai valori tradizionali con cui magari si è cresciuti, ci si sente smarriti, ci si sente confusi, non si sa dove girarsi per trovare il proprio punto di riferimento e quindi si rimane bloccati. E allora in questo filone, in questo contesto meglio, si inseriscono proprio i movimenti che hanno a che fare con il complottismo, con le cospirazioni. E quindi negli ultimi anni abbiamo sentito molto parlare per esempio di scie chimiche, abbiamo sentito parlare di terrapiattisti, è un movimento che è diventato abbastanza noto nell'ultimo anno, così come abbiamo sentito parlare di movimento contro le vaccinazioni, contro i vaccini, che hanno tutti a che fare con una ribellione rispetto alle autorità. autorità che quindi vengono rappresentate da società farmaceutiche, grandi aziende, colossi del lavoro e del mercato, oppure anche lo Stato, teorie scientifiche così come le conosciamo fino ad oggi. Questa ribellione noi non dobbiamo pensarla per forza legata però a questi temi su larga scala, per esempio il clima, ma possiamo pensarla nella nostra attività quotidiana legata a quello che è la fake news, la bufala, cioè una notizia che sembra vera, sembra veritiera e che quindi ci attira proprio perché punta su alcune tematiche che a noi stanno care, che però non ha un fondo di verità. Quali sono per esempio? Beh, ad esempio quando leggiamo sui social network la notizia di una dichiarazione di un politico che non prende in considerazione, anzi sbeffeggia, le tasche del cittadino, soprattutto delle famiglie sull'orlo della povertà e quindi a noi colpisce questo e stiamo lì a ricondividerla. Cadiamo però in un trenello perché facciamo partire questo atteggiamento nostro automatico perché ci indigniamo, però non andiamo a verificare se effettivamente quella notizia ha una verità. Oppure anche con delle scoperte che sembrano vere, addirittura supportate da dati scientifici, da ricerche che però non esistono e quindi non andiamo a verificare, cioè non attiviamo il nostro senso critico perché veniamo coinvolti emotivamente e ci attiviamo invece per far sì che quella notizia si diffonda. Quando viene condivisa da più persone, secondo un effetto che è stato teorizzato dopo una ricerca da uno scienziato Milgram, questo sembra quasi rendere più veritiera quella la notizia. L'hai condivisa tu? Allora sarà sicuramente vera. Questo è stato dimostrato in una piazza e un uomo nella piazza affollata si sofferma in un angolino guardando verso l'alto ed è stato osservato come altre persone con una percentuale poco inferiore al 10% rispetto alla folla della piazza si soffermasse lì a guardare nella stessa direzione dell'uomo. L'effetto è amplificato se invece di una persona si sofferma un gruppo di persone e addirittura arriviamo al 40% della folla che si ferma nell'angolo e guarda al cielo per vedere da cosa è attirata la gente. Ecco che allora condividere senza attivare questo senso critico sembra quasi dare validità a quelle notizie. E lo stesso funzionamento lo hanno anche le cospirazioni, lo hanno anche i complotti e le bufale di cui parlavamo poco fa. Allora una ricerca scientifica del 2017 ha cercato di fare il punto della situazione per quanto riguarda tutte le ricerche sulla teoria del complottismo. Questa ricerca è stata portata avanti dall'APS da tre scienziati cioè Sicioka, Sutton e Douglas e hanno riassunto come il complottismo sia sostenuto da tre fattori. Fattori epistemici, fattori esistenziali, fattori sociologici. Numero 1 i fattori epistemici. Questi sono legati alla conoscenza, al desiderio di conoscere che fa parte proprio dell'uomo. L'uomo quando non conosce inizia a generalizzare delle relazioni che a volte sono delle relazioni prive di senso soprattutto se alla base c'è una grande situazione di disagio. Questa è una capacità adattiva che l'uomo ha sempre avuto quando per esempio doveva distinguere le macchie di un predatore in mezzo ai cespugli. Questa capacità di mettere in connessione alcuni elementi per distinguere e viene applicata ora come capacità adattiva, perché no? Per rispondere a un proprio stato di disagio. Uno stato di disagio che quindi cerca di soddisfare la conoscenza, ma non corrisponde alla vera conoscenza, perché pur di far questo il complottismo porta a teorizzare delle nozioni, delle teorie stesse che sono impossibili da contestare, proprio perché sono delle teorie che non hanno una sperimentazione diretta. Sono osservabili le conseguenze, gli effetti, e oltretutto sono anche affascinanti e fanno presa molto facilmente uno perché puntano proprio sulle tematiche calde di cui parlavamo poco fa. Il clima, le scie chimiche, la terra, altre tematiche che riguardano la propria salute che è molto cara alla persona. E poi sono molto semplici. Per esempio il fatto che partendo da un punto della terra andando nella stessa direzione con un aereo per esempio si ritorni al punto di partenza è difficile da dimostrare da un punto di vista della terra sferica. Invece è molto più semplice dimostrarlo con una teorizzazione di un concetto come quello che può essere l'effetto Pacman, secondo cui arrivate a un limite e si viene catapultati dall'altro limite. La metto lì un po' sulla semplicità anch'io in questo caso. Quindi un bisogno di conoscenza che va a placare un'ansia di fondo. Non so perché mi sta succedendo quello che succede però aderire a questo movimento e quindi una condivisione di questa teoria mi permette di placare in un primo momento quest'ansia. Oppure non so perché attraverso il bombardamento a cui tutti siamo sottoposti di informazioni anche abbastanza tragiche, traumatiche, di omicidi, di catastrofi, non so dare una spiegazione. E allora diamo una spiegazione secondo il principio del sabotaggio. Cioè altre persone magari vogliono questo. Sono degli eventi che vengono studiati, per esempio l'attentato alle torri gemelle, oppure sono degli eventi che sono stati costruiti a tavolino che però non sono mai successi realmente. Per esempio il primo sbarco sulla luna. Ecco quindi i fattori epistemici, la necessità di soddisfare la sete di conoscenza. La seconda classe è quella che ha a che fare con i fattori esistenziali. Cioè l'uomo tra i suoi bisogni ha anche un bisogno di sentirsi al sicuro. E quando è che l'uomo si sente al sicuro? Se non quando tiene le cose sotto controllo. Quando è capace di controllare tutti i fattori. E quindi un movimento che rispetto alla grande massa è quasi eletto nell'avere accesso a questa conoscenza è un movimento che si sa muovere. Un movimento di persone che tengono tutte le situazioni sott'occhio. Non sfugge nulla. Questo oltretutto il fatto di accedere a una conoscenza che è accessibile soltanto ad alcuni, soprattutto quando si ha a che fare con le autorità, quindi è accessibile alle autorità ed è comprensibile soltanto da alcune persone fa sentire anche come un movimento di eletti. E allora dato che secondo questa ricerca, secondo le ricerche, solitamente chi aderisce a un movimento di tipo complottistico ha una scarsa percezione di sé, una scarsa autostima, ha una scarsa rete sociale o appartiene a una classe sociale di certo medio-basso, soprattutto per quanto riguarda un fattore economico, questo restituisce autostima. Io ho compreso come vanno realmente le cose, quindi mi sento per questo importante e il fatto di stare in un gruppo che riconosce tutto questo eleva la mia immagine perché mi sento un elemento positivo. Quindi i fattori esistenziali hanno a che fare sì con la sicurezza e il tenere tutto controllo, ma anche nel tentativo di aumentare la percezione da negativa a positiva di sé stesso, proprio perché si diventa detentori di un sapere che è quello veritiero. Terza e ultima tipologia, i fattori sociali. Aderire a un movimento significa aderire ad un gruppo di persone, sviluppare appartenenza rispetto a questo gruppo. Quindi se io vivo una situazione di isolamento, aderendo ad un gruppo non sono più isolato, non solo, ma ci sono dei valori profondi, delle convinzioni profonde e un tipo di pensiero condiviso che vanno a sostegno anche del fatto che non sei più solo, ma sei in compagnia di persone che pensano e che sentono come te, hanno la stessa tua concezione del mondo che ci circonda. Solitamente la concezione è quella di sentirsi sabotati. La propria condizione, allora, inspiegabile fino a quel momento, diventa giustificata, motivata, motivata dal fatto che ci sono altre persone che vogliono che noi siamo in questo modo. Per esempio, qualcuno vuole che l'uomo o una parte dell'umanità viva isolata, che viva nella soglia della povertà, che viva in un determinato modo, ad esempio nella malattia, perché deve fare gli interessi di poteri molto più forti. Tuttavia, se è vero questo in un primo momento, è vero anche il contrario, cioè che tutto ciò costringe poi a un certo punto a sentirsi isolati rispetto alla società, perché nel portare avanti una teoria che magari non viene condivisa, si rischia di essere discriminati dagli altri, si rischia di essere giudicati e quindi di essere messi da parte. E quando questo poi va a inficiare anche sulla propria condizione lavorativa, affettiva, diventa qualcosa di molto più complicato come effetto da dover gestire. Ecco perché poi la ricerca conclude su un fatto. Se è vero che questi sono i fattori, i motivi che spingono le persone ad aderire ad una cospirazione, ad un complotto e che quindi rendono così affascinante la teoria del complottismo, è vero che non ci sono studi sufficienti per dimostrare come poi effettivamente siano soddisfatte queste motivazioni, perché finora sembra quasi il contrario. Ho la parvenza di una buona percezione di me, ma poi effettivamente il fatto di appartenere ad un gruppo non mi permette di cambiare le cose, non mi permette di differenziarmi e quindi di realizzarmi, di affermarmi. E allora non c'è autonomia e non ci sono risultati concreti che vengono raggiunti, se non quelle che in un primo momento mi calmano rispetto all'ansia di non sapere, mi fanno sentire parte di un gruppo. Però effettivamente per quanto riguarda l'autorealizzazione non ci sono delle conseguenze. Allora qual è il punto di questo episodio? Il punto potremmo riassumerlo nel fatto che la cosa più importante è sviluppare una capacità di adattarsi al cambiamento, di essere flessibile rispetto al cambiamento della società, ma anche come tutto questo si scateni con una reazione a catena in tutti gli altri fattori, dal lavoro alle relazioni alle relazioni affettive. Quindi è questa la vera responsabilità. Un piccolo appunto invece sulla comunicazione, sul confronto, perché noto che molto spesso il confronto con chi aderisce a una teoria di questo tipo si basa sul confutare l'uno la teoria dell'altro. Ecco questa è una cosa impossibile se poi andiamo a prendere le motivazioni di fondo che vanno a sostenere l'appartenenza a un movimento di questo tipo. Sono motivazioni molto molto profonde che vanno a creare delle convinzioni radicate a dei valori ben specifici e a dei bisogni molto importanti. Quindi non ha senso cercare di confutare l'altro, stare lì ore e ore poi arrabbiandosi, ah tu non capisci, ma tu cosa fai, credi a questo eccetera. Ha più senso un confronto, un confronto molto aperto dove ognuno si può prendere magari il pezzo di cui ha più necessità, di cui aveva bisogno e poi tutto il resto magari lo mettere da parte e tra virgolette amici come prima. Se questo episodio ti è sembrato interessante io come sempre ti invito ad unirti al nostro training alla gioia, cioè mandandomi un messaggio con scritto gioia su whatsapp al 329-321-1971 e parteciperai al nostro non movimento ma canale in cui riceverai ogni giorno uno stimolo, uno spunto di riflessione per la tua crescita personale. Inoltre se vuoi contribuire alla crescita di questo progetto, vivere in armonia a partire da un euro al mese, puoi farlo così come lo hanno fatto già alcune persone aderendo alla community dei finanziatori che ringrazio come sempre. Se vuoi farlo anche tu vai su vivere in armonia.com in modo tale da scoprire non solo come farlo ma anche in modo da accedere a tutti i contenuti riservati e a tutti gli extra per i finanziatori che hanno deciso di contribuire alla crescita di questo progetto. Un abbraccio, alla prossima! Grazie!